Ciao a tutti, in questo video volevo fare anch'io il punto della situazione su appunto il caso Facebook analitica, Smart Cities e Blockchain, visto che ultimamente se ne sente parlare forse anche fin troppo di questi temi senza mai andare al dunque di cosa veramente potrà cambiare nella nostra vita nei prossimi anni. Allora per quanto riguarda Facebook analitica si è un po' chiarito che cosa è successo e diciamo che non è successo nulla di così stravolgente, nel senso che è stata fatta in passato un'applicazione che si chiama This is your digital life, questa è la tua vita digitale, e quindi sostanzialmente accettando questa applicazione davate l'accesso a un'applicazione di terze parti di leggere i vostri contenuti che scrivevate appunto su Facebook. Come dire, mi sembra strano che si sia montato questo caso perché se effettivamente le persone si informano di quello che accade con i propri dati e poi anche il fatto che una volta che i tuoi dati li vai a mettere su un servizio di terze parti non saprai mai veramente che cosa accadrà ai tuoi dati, non avrai mai la certezza che quando tu andrai a modificare o cancellare qualcosa veramente questa cosa accadrà. Quindi possiamo inventarci tutte le leggi di GDPR, la legge dei cookie eccetera eccetera, di fatto non c'è niente che ci darà una garanzia di che cosa succederà ai nostri dati nel momento in cui non siamo più noi a gestirli, ma li diamo a una terza parte. E niente, quindi che cosa farà Facebook per evitare queste forme di abuso? Quindi, vabbè, notificherà le persone se un'applicazione di terze parti accederà ai nostri dati, ovviamente se si accede appunto in un secondo momento. E appunto renderà un po' più chiaro quali dati andranno all'applicazione e dopo un po' di tempo che noi non utilizziamo più un'applicazione associata al nostro account Facebook, quindi dopo tre mesi, probabilmente verrà fatto scadere questo token e questa applicazione di terze parti non potrà più accedere a questi dati, diciamo ai dati nuovi perché comunque ai dati vecchi ha già avuto accesso. E niente, quindi queste qui sono alcune politiche di buonsenso, però, come dire, evitano che l'applicazione acceda ai dati futuri, però ai dati ai quali ha già avuto accesso non si può fare nulla. L'altra cosa che mi dà un po' fastidio di questo discorso è che si parla tanto di leggi e di che cosa ha fatto Facebook, ma non si parla tanto del fatto che Facebook, ma anche altri servizi, spesso vanno a chiedere agli utenti dei dati, delle informazioni che non sono strettamente necessari all'utilizzo dell'applicazione. Per esempio, Facebook personalmente, ma anche ad altri, continua a chiedere in continuazione il numero di telefono e personalmente non ho nessuna intenzione di dare il mio numero di cellulare a Facebook. Qui viene scritto che appunto darà uno strato ulteriore di garanzia, di sicurezza sull'account, ma il punto è che, secondo me, non c'è nessun bisogno di dare il numero di cellulare a Facebook, come non c'è bisogno di dare il proprio numero di cellulare ad altre applicazioni. E quindi il fatto di chiedere dei dati che non sono pertinenti all'utilizzo che poi si fa del servizio, mi sembra già quello un abuso abbastanza strano, nel senso che meno informazioni si danno, meno c'è il rischio che queste informazioni vengano perse, e vengono, diciamo, prese da altre persone. E quindi mi sembra una regola abbastanza di buon senso. La cosa inquietante che mi è successa su Facebook è che continuava a chiedermi il mio numero di cellulare e c'è stato un periodo che mi suggeriva un numero di cellulare preso chissà dove e mi chiedeva la conferma se questo qui era veramente il mio cellulare. Probabilmente l'ha preso da dei contatti che invece hanno accettato questo tipo di autorizzazione. E comunque il numero di cellulare era sbagliato e invece un'altra volta la pescata si vede da qualche contatto giusto, però ovviamente io non ho dato la conferma. e in questa infografica è interessante vedere come Facebook, che è nato come social network privato, a differenza di Twitter, che è nato come social network pubblico, pian pianino Facebook ha sempre allargato la quantità di dati che rendeva disponibili a tutti di default. Quindi all'inizio se aprivate un account Facebook, le informazioni diciamo pubbliche visibili a tutti erano abbastanza poche. Andando avanti con la crescita delle social network, queste informazioni sono state veramente tantissime, quindi anche le persone che noi non conosciamo possono leggere i nostri contenuti, dipende come l'avete configurato. Tutti i contenuti tranne i dati di contatto privato, quindi email, numero di cellulare, immagino, e la data di nascita. Però come vedete tutte le altre informazioni nell'impostazione default della privacy sono visibili a tutti. E magari molti non si rendono conto di questo aspetto, oppure se ne accorgono quando è troppo tardi, però di fatto queste sono le impostazioni della privacy di default. Quindi nel momento in cui tu di default rendi disponibili a tutti le informazioni quello che interagisce l'utente, è normale che poi qualcun altro possa accedere in modo sistematico e fare analisi che ritiene più opportune. Prima di Facebook c'era un servizio che a me piaceva molto, che si chiamava Google Reader, e è stato disattivato nel 2013, quindi cinque anni fa, quando appunto iniziava il boom dei social network e diciamo la scusa di Google era quella che c'era stato un declino dell'utilizzo. In realtà non era tanto quello il problema, era il fatto che appunto con Google Reader tu ti iscrivevi ai blog delle persone. Invece con il social network dovevi proprio avere una connessione diciamo diretta con chi è che creava certi tipi di contenuti e di fatto il problema di fondo è che evidentemente Google non riusciva a monetizzare questo tipo di servizio ed è per questo che poi sono nati il social network dove appunto chi è che gestisce il social network ha molte più informazioni delle persone rispetto alle persone che si iscrivono a un feed reader di un blog. E sempre sul discorso dei dati, open data, smart city eccetera, ho visto questo articolo che è uscito sull'internazionale, molto carino, che vi consiglio, che dice che appunto le città intelligenti non esistono, quindi queste smart city che qualche tempo fa, ma ancora adesso venivano tanto elogiate, in realtà non esistono, nel senso che sì, c'è sempre più tecnologia, ci sono sempre più dati, però in realtà questi dati rimangono poi diciamo nelle mani dei burocrati, non è che vengono dati più di tanto, soprattutto se sono dati importanti. e quindi qui dice che alla fine questi dati sono meno accessibili che la villa di un miliardario. E l'altra cosa appunto è che sì, ci sono sempre più sensori a basso costo che ci permettono di rilevare i parametri dell'aria, eccetera eccetera, però quando questi dati in qualche modo sono scomodi, succede in Cina, ma succede anche da noi, questi dati non è che vengono dati tranquillamente alle persone, vengono sempre date delle versioni aggregate, tanto per far vedere che si vuole dare qualche informazione in più ai cittadini, invece spesso non sono dati particolarmente utili. E giusto per farvi un esempio di questa trasparenza a senso unico, nel senso che spesso tutte le transazioni, tutte le interazioni degli utenti, i burocrati vorrebbero averle a disposizione, però di contro tutte le cose che fa la burocrazia non sono sempre così trasparenti e logiche. Per esempio, se voi cercate termovalorizzatore sul portale open data della città di Torino, non trovate nulla. Se non andate a cercare sui dati della regione Piemonte, anche non trovate nulla. Se invece andate sul sito dell'ARPA, trovate sì delle informazioni, ma non sono delle informazioni che veramente riuscite ad analizzare. Per esempio, questi dati del termovalorizzatore, dell'inceneritore che c'è a Torino, non sono sempre aggiornati. Per esempio, siamo ad aprile e non ci sono i dati di marzo. E se andiamo a vedere i dati di febbraio, sì, ci sono, però sono dati aggregati mensilmente. Quindi, se anche c'è stato uno sforamento in qualche giorno in particolare, non ci accorgeremo mai, perché sono appunto delle medie. E a meno che non ci sia qualcosa di veramente distruttivo, non emergeranno in questi dati mai delle anomalie. E l'altra cosa che mi ha colpito in questo periodo è il fatto che l'Unione Europea, anche lei si vuole buttare in questa cosa della blockchain, che onestamente non riesco a capire quali utilizzi potrebbe fare la blockchain a livello europeo. Cioè, la blockchain ha valore proprio per il fatto di essere globale, così come internet ha valore proprio per il fatto di essere globale. E comunque ci saranno appunto dei fondi dedicati a questo tipo di cose, però appunto c'è tutta una serie di stati che hanno dichiarato l'interesse in questo tipo di progetto. Tra questa lista non c'è l'Italia. e tuttavia sì, si parla di blockchain innovazione, ma di concreto non si capisce che cosa veramente si potrebbe fare, che non si può fare come un database distribuito. E appunto su questo tema, che anche qui ci sarà lo sviluppo della blockchain entro il 2020, con 80 milioni di euro dedicati a questo tipo di progetti, che onestamente non ho la più pallida idea di che cosa potrà venire fuori, andando a leggere che cosa sta accadendo in Cina, probabilmente qualche idea dovrebbe anche venirci in mente a noi. Per esempio in Cina hanno avuto questa grandiosa idea di fare una classifica dei cittadini e quindi in base al proprio punteggio social si ha diritto o meno a determinate attività. Per esempio, se avete un basso punteggio social non potete magari prendere l'aereo o il treno muovervi all'interno del paese, vi viene abbassata la velocità della connessione internet, questi sono alcuni utilizzi della blockchain diciamo burocratica, oppure, non so, i vostri figli non possono partecipare a certi tipi di scuole, voi non potete candidarvi per certi lavori che hanno a che fare con le banche oppure le istituzioni, non potete partecipare, non potete andare nei migliori hotel e quindi questo per dire che se veramente si sta andando verso questa direzione questo non è un social network dove smettete di utilizzarlo perché siete voi già dentro il social network e quindi saranno poi gli altri a valutarvi e non potete appunto togliervi perché appunto fa parte di questo sistema e quindi sostanzialmente viene trovato un modo per distinguere i cittadini bravi da quelli meno bravi e quelli diciamo più bravi, più affini a questo tipo di meccanismo avranno più opportunità e gli altri invece saranno in qualche modo ristretti nell'utilizzo dei servizi se non peggio. Spero che questo video vi sia piaciuto, che appunto vi abbia chiarito un po' meglio di quali sono le tendenze della blockchain quando non ha a che fare con le criptovalute. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!